Ciao ragazzi, vogliamo vedere un nuovissimo video di Roblox Ragazzi, siamo in plena, siamo in YouTube Ragazzi, io stavo giocando per un ricordo che facciamo un video con questo Ora, ho avuto a fare tutto il video E...si Poteci, 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 poteci Sì, poteci, poteci Sì, poteci Va, finito Ok PoIncorso Poteci ok con c'è e spettacolo ok cos'è ma che andico come si prende prendo questo prendo questo prendo quello aspetta posso prendere l'uovo perché ho visto che non potevo prendere le uovi che diamo 3 2 1 non si possiamo prendere questo un diamante questo quanto costa quanto costa ecco non fa niente costa forse robux dai ma dove ecco un what what mille 299 robux mi sta girando la testa e free per tuo multiplier beh dove mi trovo cavolo entra entra devo stoppare e non posso neanche stoppare molto bene shopp io posso comprare questo se no avrò solo due robux word of art papa what se io compravo questo ok ok ragazzi non c'è i robux che cosa venti diamanti no mi dispiace ciao 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 quanto sei no gem exchange devo andare in un plot ciao 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 Io ho cambiato il valutazione Se quello video L'ultimo video che ho spesso Temi Robux La mettiamo così Che il video si supera 6 like Non so se potete però Si Si supera 6 like Io Spendo 3,90 400 Robux 400 Robux e basta 400 Robux costa 4 euro Si Che flash ha sto qua Questo che è morto Queste sono le mie Grazie grazie sono billionaire Tu ce l'hai più di me però Quanto fa questo Che cosa Un'ora Quanto fa Ma Quanto fa Quanto fa ok se io voglio andare in un arco devo fare questo io non ho neanche un rebirth se faccio un rebirth forse mi dà di più io lo faccio 10 milioni io non ce l'ho no, toth money dai ragazzi finitelo ti velociisco io dai dai veloce non c'è proprio niente di soldi tu quanto ti sei un milione dai anche tu però ragazzi io vengo quanto c'ho non so quanti soldi però quanti soldi che posso fare ok vengo adesso no, ragazzi ho visto voglio aspetta io ho messaggio io lo dico che sto facendo il video ok ti posso chiamare ok ok se io la vede se dice sì va bene oh io mi hai chiamato ok pronto 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 Nafis ciao hello Nafis e adesso adesso deve essere lui online ecco qua online lui 5 civici in un bozzone ecco lui è questo qua eeeh sì eeeh ok non lo so perché lui non c'è tomato il mio amico lì mi ha accettato dove cavolo sei neanche magnifico uno lo so se te ecco ti qua petranci simulator papapom ok adesso giochiamo tutto qua beh non hai finito ancora non so perché lui sempre 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 gioca a wow ragazzi ma questo è il nuovo petranci è il primo petranci simulator quello è petranci simulator 2 ciao amico se lui mi risponde va bene va bene molto molto va bene potete vedere che lui è lì il suo plot è proprio davanti lì eeeh sì oh na 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 posso comprare le uove na 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 o è comune o è comune prendo un altro 190 ecco questo eeeh amico mio eeeh ciao amico ciao 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 fai video fai fai video non so perché dico go 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 oh tommaso black tommaso black con tommaso black privato si sto facendo video ok ok devi mettere dove sei su youtube sono in mezzo all teams in mezzo misi no si si se mai più amici. Io vado via, 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 via. Dove vai te? Io vado con questa persona, una fiesta. Questo è il mio ranch. Ci sono tre piettini. Cosa devo fare altro? Equipaggio, equipaggio. Ma non posso equipaggiarle. Equipaggio. Perché non posso equipaggiarle? Aspetta, no. Vado sul ranch. Sei da otto, max. Faccio su dodici, non posso fare. Webert, cinquecento milioni. Beh, 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 non è che così tanto, eh. Vado sul pets. Adesso posso equipaggiare tre, cioè sei. Questo pet. Equipaggia, equipaggia. Questo pet equipaggia, equipaggia. Questo pet equipaggia, ovviamente. Ninja leggendo. Eh? Cosa ho detto? Non ho capito un tubo. Ecco qua. Non ho capito niente, eh. Ok. Ok. Ninja. Ninja leggendo. Amico mio, Tommaso, vai sul ninja. Eh, lui se n'è andato. Vengo in Ninja Legend. Eh, ok ragazzi, ci sono su Ultra Beast Ninja da Legend. Ok ragazzi, ci sono. Ecco il mio amico. Tu sei in... Dove, dove eri? Dove sei andato? Ehm. Nafis. 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 Ah, sì, eccoti qua. Dragon Master. Ciao, furbone. Furbone, furbone, furbone. Sì, sono qua. Ti ammazzo. Oh no, adesso mi ammazza perché sono basso lì. Ecco qua. Perché sono basso il livello di lui? Ehm. E vabbè. Ok, ciao, al basso il livello. Se non basso il livello, sono il Ranch è più di, è più di lui. Ehm. Ehm. Lagga. Lagga. Bli blop. Bli blop. Bli blop. Ragazzi, era una truffa quella cosa. Ovviamente. Era una truffa. 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 Aspetta. Gate Queens. Se non, non è che... c'è un pochino di rapatapapom. Un pochino, non ce l'ho, non ce l'ho. C'è 82 roba. Sono troppo povero, povero, povero. Questi sono, questi esplode, guardate. Io metto la musica. Ok. Quanto si può prendere anche i chi? Oh. 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 Oh ci devo fare attire ad esempio dei miei quali e xgen come un gregno non ti dono cari oh e oh ahi mawe si 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 xgen xgen come se incel non è vero non è vero non è vero non è vero ok ha detto ok no no io vado su trade dai 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 trade con dove 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 c'è ok adesso di carri stiamo stop stop non mi dare più non mi dare più non mi dare più non mi dare più c c r 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 Più soldi che posso fare sono chi? Pulaghi? Troppo! No, sono dietro di te! Dove sei? Bu, sono dietro di te! Tommaso Glenn! Sono qui! Sono dietro di... Oh, mi vedi? Oh, wow! Sono qua! Carro! Non lo so, non lo so! Non lo so! Abbiamo quattro pacchetti! Vado! Non lo so! Non lo so! Oh, non caso, però! Vado in... Underland Underland cosa cavolo vuoi? Cosa cavolo vuoi? Non è che... Vado in... Aspè! Vado! Io vado! Underland! Anche io! Ok! Tommaso Black! Comunque tu laghi e... Io lo so! Però... No! Io... Non laggo così tanto come te! Il mio file è più... Aspetta! Il mio file... Il file è più... Bravo! Bello! Di te! O cosa cavolo vuoi te? Non voglio succiare... Non voglio succiare... Aspetta! Aspetta! Non fa male! No! Ma che... Non ti do niente! Finito! Non ti do niente! Vabbè! Ho già comprato tutto qua! Ho già comprato tutto qua! Eheheheh! Non vado sul cell! No! Caglino! Caglino! È bene! Mi stai chiamando! Pronto? 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 Dunque ragazzi... Ci sono... Ehm... Se ragazzi... Se vi è piaciuto questo video... Lasciate il mio video... Mi piace... E abu... Out!